salve a tutti ragazzi e benvenuti a un nuovo video del canale il video di oggi non c'entra assolutamente nulla col mio canale ma è da tanto che lo volevo fare e quando voglio fare video che non c'entrano niente col mio canale o provo di raggrupparli tutti e fare una super palla di 20 minuti per non spammare troppo video che al fine so che magari non interessano a tutti quelli che mi seguono oppure non li faccio per niente questa volta invece ho deciso di farlo perché avevo voglia se questo video dovesse riscuotere un discreto successo comunque c'è un po' di interesse magari porterò anche la controparte manga partiamo con un disclaimer parlo ovviamente solo di anime che ho visto tanti non sono riuscito a vederle ragazzi in più questa lista include soltanto anime finiti nel 2018 quindi non vedrete Jojo perché non è ancora finito non vedrete Steins Gate Zero perché non sono ancora riuscito a vederlo e anche altre cose che sono dell'ultimo periodo e che non hanno ancora trovato l'ultimo episodio prima della fine dell'anno quindi abbiamo 10 anime ne parlerò brevemente non posso farvi vedere spezzoni o mettere musiche perché sennò mi arriva un copyright strike grosso come una capanna quindi vi posso solo far vedere immagini mi dispiace quindi cominciamo dalla categoria fighting e violenza inizio confessandovi che io ho un debole incredibile per tutti gli anime fighting in generale e questa stagione sono stato contentissimo di vedere che Netflix ha fatto uscire Bucky dopo infiniti anni la stavo aspettando da un'eternità questa serie e fra parentesi se non avete visto la prima serie di Bucky e non vi dispiace tanto vedere un anime con la grafica di tanti anni fa vi consiglio di recuperarla prima di cominciare a vedere questa perché questa copre personaggi fra parentesi secondari che non erano stati assolutamente approfonditi nella prima serie cioè li vedi te li presentano nella prima serie poi li accantonano le buttano da parte non sei niente di loro ed era un po' triste questa serie approfondisce tanto quei personaggi lì Bucky appare che sarebbe il protagonista della nostra serie però ha un ruolo abbastanza secondario diciamo che su tutti gli episodi appare per 4-5 puntate alla fine la trama di questo arco narrativo è che dei prigionieri potentissimi sigillati in varie prigioni del mondo decidono di scappare tutti insieme contemporaneamente dalle loro prigioni perché vogliono conoscere la sconfitta sono degli esseri praticamente sovrumani perché hanno dei poteri incredibili cioè c'è un tizio che è riuscito a scalare un silos missilistico arrampicandosi solo utilizzando i polpastrelli su una superficie piatta quindi rendetevi conto di che elementi stiamo parlando un altro tizio che riesce a rendere una roccia sferica prendendola a pugni un macigno lo fa diventare una sfera prendendola a pugni si recano tutti in Giappone per conoscere la sconfitta e in Giappone chi trovano? trovano il nostro protagonista Bucky che è il campione dell'arena sotterranea di combattimento giapponese e tutti gli sfidanti che ha affrontato Bucky nel corso degli anni durante la vecchia serie quindi voi non saprete chi sono questi grossi omunculi che vedrete ma vi assicuro che i combattimenti meritano tantissimo quindi ripeto se non avete voglia di vedere la prima stagione perché la grafica è quella che mi rendo conto che per tanti è un problema grosso date una chance perlomeno a questa e poi magari vi andate a recuperare la storia precedente con Cal andiamo al secondo anime ovvero Megalobox Megalobox siamo anche qui nel genere fighting e violenza ma qui c'è una trama un po' più importante sotto parto col dirvi che Megalobox è una serie creata per commemorare il 50esimo anniversario di Rocky Ju la serie è ambientata in un futuro molto molto lontano dove le persone ricche vivono in una città a parte le persone povere vivono in questa specie di bidonville e si guadagnano da vivere come possono il protagonista di questa serie è Junk Dog che poi assumerà un altro nome più avanti ma per il momento lo chiamiamo Junk Dog la box in questo mondo viene praticata grazie a dei gear ovvero una specie di armatura metallica che si monta sulle spalle del pugile e che aumenta la velocità o la potenza dei pugni Junk Dog è un personaggio molto autodistruttivo si è anche un po' rassegnato alla sua vita di incontri clandestini truccati di dover perdere determinati match per soldi e compagnia quando un giorno accade un evento particolare la sua vita cambia e decide di provare di partecipare al torneo della Megalobox la storia è credibile non fa cringiare il finale è veramente qualche cosa di forte e questo chiude la nostra categoria fighting e violenza quindi andiamo alla prossima categoria che è la categoria misti come dice il nome della categoria la categoria misti include anime con una trama che ha un po' tutto al suo interno e io direi di cominciare subito col pezzo forte di questa categoria secondo me che è Overlord Overlord ragazzi quest'anno ha terminato la sua terza stagione probabilmente ce ne sarà anche una quarta perché la storia va avanti anche di parecchio io ho letto anche la novel quindi sono abbastanza un pezzo in là con la trama e vi posso assicurare che molto probabilmente arriverà anche una quarta stagione ovviamente se siete interessati a recuperarla dovrete partire dalla prima trovate tutto su youtube nel canale di Yamato Animation quindi non dovete andare a cercare chissà dove per recuperare tutto quello che vi manca partiamo col dire che Overlord è l'ennesimo anime Isekai quindi se non sapete il termine Isekai è il nostro protagonista catapultato in un altro mondo genere abusatissimo in questi anni sinceramente mi è anche un po' arrivato al collo ma Overlord riesce a fare tutto questo in una maniera fresca e in una maniera diversa e ragazzi mi piace Overlord è bellissimo c'ha tutto quello che gli serve dentro c'ha ottimi personaggi secondari un personaggio primario che è OP ma ha anche tante debolezze tanti misteri e tante sottotrame e quindi si segue molto bene a differenza di altri Isekai che girano in questi ultimi anni che l'unica roba che hanno è che o sono un anime harem o sono un anime ridicolo con una sola storia che va avanti dall'inizio alla fine piatta in una maniera incredibile Overlord riesce a fare tutto questo molto bene anche il setting iniziale è molto interessante l'ho trovato un po' affine ai miei gusti visto che Momong è il nostro protagonista è il guild master di una famosa gilda in questo gioco online con realtà virtuale aumentata quindi anche qui simile a Sword Art Online con i caschetti e tutto il resto ma praticamente è l'ultimo player giocante rimasto nella sua gilda gilda incredibile che ha fatto un sacco di achievement hanno una sedia di gilda gigantesca un sacco di NPC costumizzati creati da loro eccetera 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 ma non gioca più nessuno dei suoi amici è rimasto da solo alla mezzanotte il server di gioco chiude per sempre e lui decide di restare fino alla chiusura ma quando scocca la mezzanotte semplicemente lui non si può più slogare e resta intrappolato in questo mondo virtuale poi da qui parte tutta la storia con gli NPC che praticamente si animano hanno la loro personalità un mondo nuovo esterno da esplorare totalmente diverso da quello all'interno del gioco eccetera 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 parliamo quindi del prossimo anime della categoria misti Ozuki Ozuki è un misto fra un gag anime e un soprannaturale ma ha fatto molto bene sono degli skit brevi tanti personaggi ti vengono introdotti l'umorismo è un po' particolare perché è il classico umorismo giapponese quindi può piacere può non piacere è una questione di gusti anche il setting è veramente difficile da apprezzare perché se non conoscete nulla del folklore giapponese sicuramente non capirete tanto ma se siete curiosi di vedere una serie diversa dal solito e volete imparare qualcosa di più proprio sul folklore giapponese sui yokai e compagnie Ozuki è la serie per voi e come piccolo bonus vi prendete anche di conoscere gran parte della lore dei mayakashi visto che praticamente ci sono tutti dentro Ozuki è un po' difficile riassumere la trama perché come ho detto anche prima è diviso tutto in piccoli skit che tutte le volte introducono personaggi nuovi o vai a scoprire qualcosa di più della backstory di quelli che già conosci e ti affezioni veramente tanto a tutti ma tanto per farvi capire più o meno come saranno composte più dalla metà delle puntate in pratica Ozuki è un'uni ed è l'assistente di re Emma che sarebbe il re dell'inferno che deve giudicare in che inferno vanno le anime degli umani morti a seconda dei peccati che hanno commesso ci sono una quantità incredibile di inferni Ozuki è ovviamente anche incaricato dalla manutenzione dei singoli inferni quindi va ogni volta in luoghi diversi conosce persone diverse partono le gag ci sono anche personaggi storici giapponesi tipo Momotaro, il fagiano e compagnia quindi è assolutamente favoloso è uno degli anime che mi è piaciuto di più in questi anni quest'anno è finita la seconda stagione parte 2 o la terza stagione non ricordo però dovrete recuperarvi le puntate precedenti ovviamente ma è assolutamente consigliato altra serie Lupin credo che Lupin non abbia bisogno di un'introduzione ragazzi sono anni che Lupin è in giro questa nuova serie di quest'anno è stata incredibile perché ha fatto vedere un lato di Lupin che non abbiamo mai visto l'episodio finale è da feels pesanti la serie è godibilissima sono riusciti ad aggiornare il concept di base di Lupin che era quello del ladro che entrava nella cassaforte e rubava il gioiello l'hanno fatto diventare il ladro che riesce a rubare con le criptovalute usa il computer usa i dispositivi smart Ackera quindi si può dire che Lupin si sia aggiornato con i tempi moderni è veramente una cosa divertente e carina da vedere l'anime ovviamente è perfetto le animazioni sono favolose se siete stati degli amanti dei primi Lupin o poi li guardavate come me quando eravate piccoli non può non piacervi questa serie nuova prossima serie di cui parliamo è Planet Wit una serie che mi ha veramente sorpreso tanto nel senso che non mi piaceva lo stile grafico e solitamente quando a me di una cosa non mi piace la grafica non mi piacciono gli artwork di base non la guardo proprio perché sono così infame invece l'ho vista assieme a un mio amico e mi è piaciuta è un po' difficile anche fare una piccola recensione breve di questa perché qualunque cosa vi dico vi spoilerò qualche pezzo importante di trama e vi andate a perdere proprio una delle cose più belle di tutta questa serie che è il momento della sorpresa di scoprire cose nuove perché inizialmente è un gran macello e non si capisce praticamente nulla e quindi credo che mi piacerebbe tenervi nell'oscurità più totale non vi racconterò niente di Planet Wit perché vi vado a levare le cose migliori dell'anime parlerò solo brevemente di quello che ho trovato veramente bello di quest'anime intanto che c'è una crescita vera e reale dei personaggi quindi dall'episodio 1 all'episodio 12 vedi effettivamente una crescita e una maturazione di tutti quelli che ti vengono presentati durante l'anime lo stile grafico che inizialmente non mi piaceva e non mi convinceva assolutamente alla fine me lo sono fatto piacere anzi mi ha anche intrippato per alcune cose è veramente stupidissimo ma è bello per quello l'unica critica che posso fare è che mi sarebbe piaciuto vedere un attimino più sviscerate alcuni pezzi di storia che sono stati lasciati fuori ma ci da rendersi conto che comunque è un anime breve mi sembra che sono 12-13 puntate quindi ci può stare che abbiano dovuto tagliare molto per farcelo stare bene in quei pochi episodi disponibili e il mecha design che se possiamo chiamar mecha perché in realtà non sono mecha che non è che proprio mi abbia intrippato tanto però per il resto ottima serie godibilissima l'ultima serie della categoria misti è Goblin Slayer che incredibilmente è riuscita a finire proprio prima della fine dell'anno per poter entrare in questa classifica l'hanno fatto proprio per me cosa c'è da dire di Goblin Slayer Goblin Slayer è un anime equilibratissimo la trama come dice anche il titolo è basata sul fatto che il nostro protagonista è assolutamente invasato e ossessionato con l'uccidere Goblin perché c'ha una backstory abbastanza triste collegata ai Goblin e poi la scoprerete seguendo l'anime ed è sburonissimo non so che altro dire ragazzi non c'è una trama particolarmente incredibile le scene di combattimento danno un gusto immenso il cast di protagonisti che si affianca poi al Goblin Slayer è carino la storia è godibile è un anime che non si può né criticare né elogiare troppo secondo me nel senso che sì le scene di combattimento sono veramente fighe tutto quello che vuoi però è un paragone che ho fatto anche l'altra sera con un mio amico che è come mangiare la minestra con il dado e basta quindi c'è buona non puoi dire che non è buona però gli manca qualche cosa Goblin Slayer infatti non capisco tutto questo hype che c'è attorno all'anime nel senso che ripeto è una storia buona personaggi buoni combattimenti buoni però niente che sia un capolavoro ecco quindi è tutto nella norma comunque sia secondo me merita di essere visto unica cosa se non siete degli amanti delle scene molto splatter o scene abbastanza crude soprattutto già dai primi episodi vi conviene guardare altro perché è abbastanza crudarello all'inizio c'è qualche piccola scena di seminudo e qualche goblin birichino non è consigliato a tutti andiamo poi alla categoria dei feels pesanti la categoria feels pesanti sono quegli anime che quando finirete di guardarli piangerete come delle bambinette e ve lo posso assicurare perché anche io purtroppo ho versato qualche lacrima guardando queste serie purtroppo ho dovuto tenere la scatola di fazzoletti tempo qui di fianco al computer perché veramente stavo morendo dentro cominciamo da quello che ho finito di vedere da meno tempo qualche giorno fa parte con una premessa strana ovvero che gli adolescenti quando hanno dei problemi grossi dei problemi che sembrano insormontabili o delle situazioni che non capiscono bene neanche loro generano dei fenomeni paranormali quindi può capitare che c'è una persona che perde la memoria può capitare che c'è il nostro protagonista che si trova con dei danni fisici fenomeni strani del genere per gran parte di quest'anime vedremo il nostro protagonista che risolve i problemi degli altri ma alla fine i problemi cadono anche sulla sua testa perché mi sono sentito di mettere quest'anime in questa lista innanzitutto perché è uno dei pochi anime dove i protagonisti non sono incredibilmente autistici non so neanche io come spiegarvelo meglio però capita troppo spesso che nelle interazioni che hanno i personaggi in queste opere giapponesi ci sono sempre quei stereotipi brutti sono dialoghi veri sono scritti bene l'anime è un po' lento per i gusti di tanti mi rendo conto che sicuramente sarà un anime lento una rara gemma ripeto solo per il semplice fatto che i dialoghi sono scritti bene sono scritti bene sono credibili ci sono delle interazioni fra personaggi credibili e umane prossima opera Violet Evergarden innanzitutto la storia rispetto alla novel è diversa leggermente diversa quindi se volete vedere un altro svolgimento leggetevi la novel ma a parte questo è una storia abbastanza pesantina è una storia strappa lacrime vi posso spoilerare il primo episodio tanto per farvi capire di che cosa stiamo parlando l'anime è ambientato nel dopoguerra è stata una guerra molto grande la nostra protagonista era una bambina soldato in questa guerra non sa fare nulla a parte combattere ed era una macchina per uccidere incredibile e partiamo all'inizio dell'anime con praticamente un guscio vuoto che l'unica cosa che ha sono i sentimenti per una persona a lei care e basta non ha nient'altro dentro di sé non ha un'ambizione nella sua vita non ha uno scopo obbedisce soltanto agli ordini che gli vengono impartiti e basta e durante il corso dell'anime vediamo una crescita esponenziale e una maturazione di Violet perché da guscio vuoto diventa quasi un essere umano funzionale nei vari episodi vedrete Violet che si reca in vari posti per scrivere lettere di persone che devono mandare le comunicazioni dopo la guerra familiari parenti e compagnia e ovviamente ogni persona che ha bisogno di scrivere una lettera ha la sua storia più o meno pesante e i suoi traumi da risolvere quindi non c'è una puntata senza feels se siete amanti del genere è l'anime per voi oltretutto ha anche una grafica assolutamente incredibile veramente un art style favoloso è una qualità da unlimited budget works non so quanto gli sarà costato fare le animazioni di Violet Evergarden ma sono favolose ultimo anime della categoria feels pesanti è Maotsukai Maotsukai la sposa dello stregone è un altro anime con feels pesanti e grafica incredibile quasi paragonabile a quella di Violet quindi veramente delle animazioni che mi sono piaciute tanto paesaggi mozzafiato la storia anche qui riassuntissima segue Cise Cise è una ragazza che per svariati fattori che scoprirete guardando la serie ha passato un'infanzia terribile mai amata da nessuno sempre passata da parenti in parente perché ha un dono particolare ovvero che può attirare le creature magiche il problema è che questo più che essere un dono per lei è una maledizione perché viene ostracizzata da tutti viene assolutamente evitata sia dai suoi familiari sia dai conoscenti amici non ha nessuno a 15 anni viene venduta in un'asta schiavi umani e a comprarla è un mago il nostro Elias e la compra per farla diventare il suo apprendista visto che essendo una Slybaggy ha dei poteri magici di base già ottimi fatto sta che così lei si trasferisce a una casa a una persona che a modo suo gli vuole bene e parte l'avventura di questi due personaggi parte anche una specie di relazione problematica fra Cise e Elias perché non si capisce se sono amanti non si capisce se è madre figlio non si capisce se è maestro e alieva è una relazione abbastanza problematica oltretutto anche qui c'è una storia molto interessante di base che va ad accompagnare già la premessa buona e in maniera abbastanza simile a Violet Evergarden abbiamo questa crescita personale dove il personaggio parte abbastanza vuoto e finisce in maniera molto diversa a fine anime che mi piace veramente tanto bene ragazzi io credo di poter concludere il video qua abbiamo parlato di questi dieci anime dell'anno che sono stati quelle che mi hanno un attimino convinto di più approfitto di questo video anche per fare a tutti gli auguri di buon anno fatemi sapere cosa pensate sotto se avete visto qualcuno di questi anime se magari qualcuno di questi non vi è piaciuto un saluto e i prossimi del canale ciao ragazzi grazie